Ciao a tutti, benvenuti nel canale delle notizie dell'Inter. Oggi vi porto un'analisi del parere dell'editorialista Luca Marchetti in merito al rendimento della squadra in Champions League e nel campionato italiano. L'Inter è sulla buona strada per vincere altri titoli? E ha anche detto cose inaspettate. Prima che lo scopriamo, iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità dell'Inter. Andiamo! Inter, cogli l'attimo, non buttare tutto all'aria, dice Marchetti. Il noto editorialista Luca Marchetti ha sottolineato oggi nel suo articolo di TMV che il calcio italiano non è tornato improvvisamente ai vertici. Non siamo i nuovi padroni dell'Europa. Dobbiamo anche ringraziare la fortuna per questa situazione. Ma questo non significa non cogliere l'attimo. Marchetti ha incoraggiato l'Inter a capitalizzare la propria trasformazione in Europa perché sono agguerriti, puntuali e concentrati, soprattutto in Champions League. Anche se in campionato l'Inter sembra disunita, in Champions League ha mostrato tutto il suo potenziale. Marchetti ha sottolineato che battere avversari di qualità non è certo una cosa da buttare. Ha anche elogiato l'allenatore Simone Inzaghi che sembra essere l'unico capro espiatorio per i deludenti risultati in campionato. Lascia il tuo like per rimanere aggiornato sulle novità dell'Inter. Marchetti ritiene che ora sia il momento di concludere la stagione nel migliore dei modi, portando nel campionato italiano tutte le prestazioni presentate in Champions League e battendo ancora la prossima stagione. Inoltre, il fatto che l'Inter sia l'unica squadra ancora in lizza per le coppe più importanti dovrebbe essere motivo di orgoglio. Per Marchetti il derby contro la Juventus è un'occasione unica per l'Inter per dimostrare il proprio valore e consolidare la propria posizione di squadra di grande qualità tecnica. Sottolinea che i tifosi di San Siro lo sanno e si godranno un altro grande spettacolo in una delle classiche più importanti d'Europa, su cui solo il Real Madrid può contare con una sfida così bella e paritaria. Sei d'accordo che la squadra debba approfittare del momento attuale in Champions League e portare questa prestazione nel campionato italiano? Qual è la tua opinione sulla prestazione di mister Simone Inzaghi? Commenta qui sotto, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per ricevere le prossime novità. Alla prossima volta tifosi nerazzurri!